Il gastolo è la richiesta del PM Emilda Milli nei confronti di Eugenio Zanoncelli, l'operaio 57enne della Bosch di Offanengo, che la sera del 24 giugno del 2020, per l'accusa, avrebbe ucciso la moglie, Morena Designati, di 49 anni, affetta da sclerosi multipla nella loro villetta di Palazzo Pignano. In che modo? Con uno schiaffo al volto e un colpo di stampella che avrebbero provocato la frattura della mandibola e di alcune costole, fino alla morte. Per il pubblico ministero si tratta di una vicenda che lascia la mano in bocca, probabilmente una tragedia evitabile. I testimoni, tra cui le ex colleghe in aula, avevano riferito che al lavoro andava anche con dei lividi in viso, al braccio e una gamba, anche se lei giustificava tutto con cadute e altre sviste. La testimonianza più toccante era stata quella del fratello dell'operaio 57enne accusato del delitto, Roberto Zanoncelli, che quella sera del 24 giugno aveva chiamato i carabinieri dopo che Eugenio gli aveva consegnato il nipote Andrea a casa sua, rivolta ad Adda, e il cellulare, dopo avergli detto di aver ucciso la moglie. Poi l'operaio si era dato alla fuga, ma all'alba era stato rintracciato dai carabinieri al confine con la Bergamasca. E da allora è in carcere. E per il figlio lì può anche morire. Sempre per il PM, il pugno e il colpo con una delle stampelle non avrebbero potuto non avere conseguenze sul corpo debole della moglie e l'uomo non poteva non prevedere le conseguenze nefaste di quel gesto. Tant'è vero che dopo averla colpita, mentre lei era a terra, non avrebbe chiamato i soccorsi, ma si sarebbe fatto una doccia, segno di distacco e di indifferenza. Il legale di parte civile, per la mamma e i tre fratelli della vittima, a nome della famiglia, ha chiesto scusa a Morena perché la sua famiglia non l'ha aiutata e ha chiesto un risarcimento simbolico di 10 euro a testa, risarcimento che deve andare al nipote. perché non è stata aiutata. L'avvocato della difesa ha invece insistito sul fatto che l'imputato non avesse intenzione di uccidere la moglie. Il prossimo 22 novembre sarà emessa la sentenza.